Bene, la terza dose dei vaccini anti-covid dalle categorie a rischio, lo afferma il dottor Angrilli, ematologo che ribadisce l'utilità delle dosi contro il virus, ma fa una precisazione. Rispetto alla terza dose di cui cominciamo a parlare, sono perfettamente d'accordo perché credo che come per i vaccini anti-influenzali dovremo abituarci a vaccinarci attualmente, verosimilmente aggiornando anno per anno il vaccino alle varianti di virus più presenti ed è giusto fare questo partendo dai fragili. Chi sono i fragili? Innanzitutto sono tutte le persone anziane e ancora di più sono fragili quelle persone che anche se non anziane hanno più di una malattia che indeboliscono l'organismo e quindi le rende più fragili nei confronti della lotta, della risposta dell'organismo al covid. Nell'ambito dei fragili ci sono anche i pazienti immunodepressi e tanti pazienti che si curano per il linfoma ad esempio sviluppano una immunodeficienza legata sia alla malattia che ai farmaci che usiamo, in particolar modo anticorpi monoclonali e cortisone. Io credo che per questi nell'ambito dei fragili ci vorrebbe anche uno sforzo in più perché queste persone possono non avere la forza con il loro sistema immunitario di produrre anticorpi e allora credo che queste persone debbano essere guardate con un occhio di attenzione in più pronti alla minima necessità a somministrare subito gli anticorpi monoclonali di cui oggi disponiamo. C'è una persona che non riesce in proprio a fare gli anticorpi monoclonali, glieli dobbiamo dare pronti contro il covid. Intanto il dottore Angrelli partecipa alla giornata mondiale contro i linfomi, c'è uno stand informativo per tutto il giorno in piazza Salotto a Pescara. Il linfoma è una malattia che si può sconfiggere in vari modi, sia con la guarigione definitiva, sia con una forma di convivenza rendendo alcune forme di linfoma una malattia cronica da portare avanti come in caso di ipertensione arteriosa o di altre malattie ma che comunque permettono di percorrere il proprio arco della vita senza dover morire di malattia. La cura del linfoma non è fatta però soltanto di farmaci, di flebo e di pasticche, è fatta anche di rapporti umani. Quindi a partire da noi medici che dobbiamo ricordare che noi non curiamo delle malattie ma curiamo delle persone che hanno una malattia quindi dobbiamo recuperare sempre più quel senso di solidarietà ed empatia che tanto aiuta.